Buon pomeriggio, benvenuti al nostro telegiornale, ampia pagina dedicata alla politica, dopo elezioni con i commenti e le interviste agli eletti, PD game over, giochi finiti, a dichiararlo e il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo che chiede le dimissioni della segretaria Fanelli e pubblicamente prende le distanze da un partito sonoramente sconfitto e oramai sempre più riconoscibile e distante dal territorio e dagli elettori molisani. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Post elezioni in Molise sono sempre più forti i mal di pancia tra esponenti presenti e passati del Partito Democratico. Il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo è il primo a commentare con durezza su Facebook la netta sconfitta subita dal PD in questa tornata elettorale. Scrive Scarabeo, PD game over, Renzi e il segretario regionale del Molise Fanelli incredibilmente non chiedono scuse e non si dimettono. Percorso inevitabile per un partito anacronistico e sempre più distante dai territori e dalla gente. Insomma Scarabeo continua nella sua crociata personale ma condivisa da tanti ex simpatizzanti democratici contro l'attuale Stato maggiore di un PD molisano che sembra vivere chiuso in una fortezza sopra una montagna lontano dalla gente e dalla stessa realtà. Infatti come comprendere il commento di un Paolo Frattura che addirittura sfiora il ridicolo facendo capire di essere come se soddisfatto dall'esito delle elezioni ignorando quello che è successo. Basti dire che il governatore si congratula anche col centrodestra dicendo complimenti per la buona affermazione. Anche alla coalizione di centrodestra il risultato ottenuto è un eloquente attestato di considerazione da parte dell'elettorato molisano. Insomma roba da allucinazione di massa come quando Frattura afferma il nuovo equilibrio emerso con le politiche ci offre però la possibilità di avviare all'interno del centro-sinistro un'attenta riflessione per capire insieme in che modo recuperare il dialogo con il nostro territorio. Soprattutto in vista della prossima campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale è tutta da giocare noi siamo pronti. Pronti a cosa? Frattura nella sua visione del mondo lo spiega subito dopo. Le regionali ci vedranno in campo determinati stiamo già lavorando per coinvolgere donne e uomini di spessore con la nuova squadra nella quale alle tante conferme affiancheremo volti nuovi e capaci. Ora come sottolinea Scarabbeo è proprio il caso di dire che per Frattura i giochi sono chiusi ma lui ancora non se ne rende conto o meglio furbescamente parla di nuovi ingressi al suo fianco. Bisogna vedere cosa ne penserà Facciolla dall'alto dei suoi 18.000 irrotti voti ottenuti alle politiche o cosa ne penseranno di Pietro Nagni e Veneziale. L'impressione è che il funerale del PD molisano di Frattura e Fanelli sia iniziato e partito dalla chiesa con un discreto gruppetto di persone al suo seguito. Bisognerà capire se arriverà al cimitero solo col morto. Renzo Di Gaetano nel servizio faceva riferimento alle dichiarazioni di Frattura il quale ha detto il nuovo equilibrio emerso con le politiche ci offre però la possibilità di avviare all'interno del centro-sinistra un'attenta riflessione per capire insieme in che modo recuperare il dialogo con il territorio soprattutto in vista della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Una sfida molto diversa da quella di domenica tutta da giocare. Noi siamo pronti ha affermato il Presidente della Regione. Congratulazione ai nuovi parlamentari della nostra Regione e i cittadini molisani con un'espressione chiara hanno dato la loro fiducia al Movimento 5 Stelle e ha sottolineato i neo eletti, ne siamo certi, svolgeranno il mandato ricevuto con rigore e serietà arricchendolo di entusiasmo e passione. Intanto nel Partito Democratico è ormai in atto una sorta di resa dei conti. Oggi Renzi ha annunciato che non guiderà la delegazione al colle per le consultazioni e che andrà a sciare. Di rimando la Presidente della Regione Friuli, Deborah Serracchiani, ha rassegnato le dimissioni dalla Segreteria Nazionale definendolo un atto doveroso e inderogabile. Si è dimesso anche il segretario regionale del Partito Democratico delle Marche, Francesco Comi, e in Umbria si è dimesso il segretario regionale del PD, Giacomo Leonelli. Prendiamo atto della sconfitta, ha dichiarato. E il risultato delle elezioni politiche nel Molise ha evidenziato una vera e propria rivoluzione culturale e sociale della quale i partiti tradizionali dovranno tener conto. Sul crollo del centro-sinistra e del Partito Democratico in particolare ha influito certamente anche il malgoverno della Regione negli ultimi cinque anni e gli interessi personali che in alcuni casi hanno coinvolto il governatore Paolo Frattura e la segretaria del PD Michela Fanelli. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis al Senato, Rosa Alba Testamento e Antonio Federico alla Camera dei Deputati. Sono questi i quattro parlamentari targati in Movimento 5 Stelle, eletti dai molisani a furor di popolo. Il quinto parlamentare, ovvero uno dei due candidati sui plurinominali della Camera, potrebbe spettare sempre ai pentastellati e in tal caso dovrebbero attingere dalle loro liste, ma fuori dal Molise, che vedrebbe così decurtata di un deputato la propria delegazione al Parlamento, poiché Rosalba Testamento e Antonio Federico, entrambi candidati sul proporzionale, sono stati già eletti sui due collegi uninominali. Manca ancora il dato definitivo dell'attribuzione del seggio alla proporzionale della Camera, ma la squadra dei parlamentari potrebbe essere completata dalla coordinatrice di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, se eletta nel collegio di Foggia o in quello del Molise. Un risultato quello del Movimento 5 Stelle, previsto sì dai sondaggi preelettorali, ma non in modo così eclatante. L'unico paragone possibile è con la democrazia cristiana dei tempi d'oro tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione politica, culturale e sociale inconsueta per gli elettori molisani, da sempre etichettati come moderati. Il centrodestra, d'accanto suo, ha rispettato i pronostici con risultati similari alla media nazionale, nonostante la sconfitta imprevedibile di Mario Pietracupa nel collegio uninominale di Isernia, dato vincente dai sondaggi e di più non poteva fare. Il centrosinistra, invece, è letteralmente crollato con i partiti minori della coalizione che hanno ottenuto risultati da prefisso telefonico e con il PD che di fatto ha ceduto una metà dei suoi elettori al Movimento 5 Stelle, nonostante la scelta di candidati presentabili per capacità e storie personali. Evidentemente, le promesse elettorali reiteratamente sottolineate dal governo regionale, circa una virtuale distribuzione di milioni di euro di risorse pubbliche e posti di lavoro, non sono riuscite a convincere gli elettori e a coprire le azioni di malgoverno e di intrecci tra affari e politica, nonché di interessi privati, messi in luce da una parte della stamba locale e nazionale, che in alcuni casi hanno coinvolto direttamente Paolo Frattura e la segretaria del PD, Michela Fanelli. I molisani hanno bocciato sonoramente questa classe politica e lo faranno anche alle regionali del 22 aprile, se i partiti tradizionali si presenteranno con le stesse facce che hanno distrutto il Molise e perfino la speranza dei molisani. E poi fatti i conti, la candidata alla Camera di Liberi e Uguali, Giuseppina Occhio Nero, è il quinto parlamentare eletto in Molise, il verdetto dal riparto proporzionale dei voti che ha premiato il partito di Grasso con la conquista di un seggio a Montecitorio. Mi impegnerò per dare voce al nostro territorio, ha affermato la neodeputata, sentiamo Fabrizio Occhio Nero. Una notizia arrivata nel cuore della notte che ha decretato l'elezione del quinto parlamentare dai seggi del Molise. Giuseppina Occhio Nero, avvocato di 38 anni, è stata eletta alla Camera con il riparto proporzionale dei voti raccolti dalla lista di Liberi e Uguali. Candidata plurinominale ed ex assessore al Comune di Campomarino, è stata accorta in mattinata tra bracci e auguri al Tribunale di Larino, dove era impegnata per alcune udienze. Se lo aspettava? Beh, devo essere sincera, no. Sono felicissima chiaramente di questo risultato sorprendente, intanto di Liberi e Uguali a livello regionale. E poi chiaramente il mio risultato personale non può che rendermi estremamente felice. Come ha preso la notizia? È veramente una telefonata del gruppo dei miei sostenitori questa notte, mi ha svegliata felicemente e ho scoperto di essere stata eletta. In pigiama? Eh sì, ero in pigiama. Per Giuseppina Occhio Nero l'esperienza di Liberi e Uguali continua al Parlamento al termine di una lunga campagna elettorale sul territorio. Sono davvero contenta di questo perché nel progetto di Liberi e Uguali ci ho creduto fin dal primo momento insieme alla mia splendida squadra e ai miei compagni di viaggio che mi hanno sostenuta e che hanno creduto come me fortemente nel progetto di Liberi e Uguali. La neodeputata in attesa di capire l'evoluzione del quadro politico è pronta ad assicurare l'impegno per la sua regione a Montecitorio. Ascoltare il nostro territorio e cercare di portare le istanze del Molise in Parlamento sperando, come ho sempre detto, di far vedere a tutti che il Molise esiste. Che tipo di sinistra è quella di Liberi e Uguali? È una sinistra che chiaramente è un centro-sinistra progressista e che si fa carico delle stanze che fino ad ora sono state tradite dal PD. I ringraziamenti della nuova parlamentare molisana si estendono a chi ha creduto nel progetto di Liberi e Uguali. Spero di non dimenticare nessuno, chiaramente voglio ringraziare principalmente i miei compagni di viaggio, il Rettore Palmieri, Michele Durante, Oreste Campopiano, Nicola Palombo, il Consigliere Totaro, tutti i sindaci che ci hanno sostenuto, Vincenzo Notarangelo, Nicola Manocchio, tutti gli altri, spero di non dimenticare nessuno, i nostri numerosi sostenitori e chiaramente il mio paese, Campomarino, che amo e che ringrazio, e la mia famiglia. E alla neo deputata Giussi Occhio Nero sono arrivate le congratulazioni del Rettore dell'Università Gian Maria Palmieri, candidato con Liberi e Uguali al Senato, con grande gioia e soddisfazione ha detto Palmieri abbiamo appreso dell'elezione dell'Occhio Nero, possibile anche grazie all'ottimo risultato di Liberi e Uguali in Molise. Prendiamo atto della sconfitta, ha commentato la segreteria regionale del PD, oggi non è un altro arco costituzionale, un altro mondo, bisogna saperlo comprendere e interpretare. Dalla sconfitta ripartiamo, ha continuato, dimostreremo di saperlo fare anche questa volta. Da imprenditore, ha invece spiegato Enrico Colavita, non posso che constatare un clima molto confuso, l'augurio che rivolgo a tutti è che il paese possa proseguire in quella stagione di riforme delle quali ha bisogno, spero prevalga il buonsenso. Siamo in una fase di particolare difficoltà per il centrosinistra tutto, ha commentato invece Laura Venitelli e occorre meditare bene su questa sconfitta perché non è solo il fiume populista che ha travolto gli steccati dei partiti e delle coalizioni tradizionali ma occorre continuare a lavorare in profondità sul territorio in vista delle regionali e delle amministrative. Il risponso datoci dai cittadini è aggiunto inequivocabile, va analizzato con lucidità anche in relazione alle esperienze di governo che PD e centrosinistra hanno portato avanti in questi anni nel Molise. Dopo la netta affermazione del Movimento 5 Stelle in Molise abbiamo intervistato Luigi Di Marzio che è stato eletto al Senato sull'Uninominale. Ascoltiamolo. Il Movimento 5 Stelle con oltre il 40% dei consensi ha letteralmente sbancato in Molise piazzando quattro candidati, due al Senato e due alla Camera. Luigi Di Marzio, ex direttore sanitario alla Cardarelli, 67 anni, è entrato a Palazzo Madama sull'Uninominale. È una risposta della gente. Aspettarsi un risultato di questo genere avrebbe significato essere presuntuosi e megalomani. Questo non significa che non ci fosse il desiderio che tutto ciò accadesse non tanto per il riconoscimento quanto perché avrebbe significato, come ha significato, una riscossa dell'elettorato. Il mio impiegno prioritario sarà quello che mi verrà assegnato in base alle competenze della compagine ma ovviamente la mia aspirazione è di potermi occupare di sanità. Di Maio a livello nazionale commentando lo storico risultato del Movimento 5 Stelle ha aperto al dialogo in una situazione politica non certo chiara a livello di governabilità. Comunque bisognerà parlare col Movimento 5 Stelle. Non è pensabile che la prima forza politica italiana non abbia un ruolo nelle decisioni che il Presidente della Repubblica dovrà assumere. Come Di Maio ha chiarito i temi sono l'oggetto su cui si dovrà discutere, non le ideologie. Quindi c'è un programma ben preciso del Movimento 5 Stelle e quello è il terreno su cui le persone dovranno decidere quale atteggiamento assumere. Intanto in Molise il Movimento 5 Stelle si prepara alle regionali sull'onda del risultato ottenuto alle politiche. Non mancherà l'impegno per le regionali perché i cittadini che hanno dato questo segnale hanno dimostrato di desiderare un cambiamento. Così Di Marzio sul tema rispondendo anche a chi nutre dubbi sulla tenuta del Movimento sulla lunga durata. È bene che continuino a nutrire queste speranze, il tempo dimostrerà chi ha ragione. Abbiamo ascoltato anche Fabrizio Ortis, eletto al Senato per il Movimento 5 Stelle, sempre sul proporzionale. Sentiamo. Al Senato sul proporzionale il Movimento 5 Stelle ha piazzato. In Molise anche Fabrizio Ortis, informatico. Campo Bassano di 47 anni, un risultato così commentato. Così netto ha sorpreso anche me, però eravamo convinti che il lavoro fatto in Molise e fatto a livello parlamentare avrebbe premiato il Movimento. Gli italiani e molisani hanno risposto bene a quello che siamo diventati, perché noi ci siamo anche evoluti nel corso del tempo. Siamo partiti dal 2013 in cui eravamo una semplice forza di rottura e siamo arrivati a queste elezioni anche con una proposta di governo credibile e che crediamo veramente efficace per far rinascere il Paese. Quali i temi su cui Ortis intende lavorare a Roma? Innanzitutto manterrò le promesse fatte durante la campagna elettorale. Quindi torneremo spesso, spessissimo, a contatto con i cittadini che ci hanno eletto riportando anche le tematiche regionali in Parlamento. Io personalmente sicuramente mi occuperò dei rischi e delle opportunità connesse alle nuove tecnologie che rappresentano il mio campo di azione. Quello che si prospetta è difficile da dire in questo momento perché ci stiamo valutando. Si sta facendo quello che si fa prima di una partita di calcio, si valutano gli avversari. Ci sono diversi scenari possibili e cercheremo di trovare la soluzione migliore per governare perché questo non sarà un momento di cinque anni di opposizione. Non ce lo possiamo permettere, non ce lo può permettere il Paese. Il Movimento 5 Stelle aspira a governare. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per ottenere questo risultato e faremo di tutto mantenendo le nostre prerogative per dare un governo serio ed efficace a questo Paese. Intese alleanze sono possibili? Sono assolutamente possibili, l'abbiamo detto, però sono possibili sui programmi, sui temi, non in giuci, non alleanze fatte di poltrone e non alleanze fatte di sottosegretari. Intanto a livello molisano il Movimento 5 Stelle si è affidato alle regionarie per scegliere i candidati per le elezioni del 22 aprile. In questo momento ci sono decine di attivisti che si sono proposti e sono sulle linee di partenza per queste regionarie. Si sta votando online, nello spirito del Movimento 5 Stelle. Il mio voto, come quello di qualsiasi iscritto, vale 1. Auguro in bocca al lupo a tutti quelli che si sono presentati, sperando che uscirà la migliore squadra possibile da queste selezioni. Il centrodestra in qualche modo ha retto all'urto dei 5 Stelle, ma il risultato finale non è certo quello che si attendeva alla vigilia. Michele Iorio ha sottolineato nel corso della nostra diretta elettorale, lo ha sottolineato, è stato intervistato da Sergio Di Vincenzo. Ascoltiamolo. Io mi aspettavo una possibile ondata di 5 Stelle. Non di queste dimensioni, sicuramente. I 5 Stelle hanno dimostrato in Molise di ricevere una valanca di consensi che non sarebbero stati raggiungibili da parte di nessuno. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, quelli che mi hanno accolto, che mi hanno incoraggiato lungo questa campagna elettorale abbastanza difficile e anche breve. Non abbiamo potuto incontrare tutti dappertutto, ma abbiamo fatto il nostro dovere. E devo dire che il risultato ottenuto è quello che, bene o male, punto più, punto meno, ci aspettavamo. Quello che era imprevedibile era il vantaggio enorme, incolmabile di 5 Stelle, che rappresenta, credo, un momento su cui bisognerà riflettere perché c'è stata una reazione di popolo. Una reazione contro la politica, contro il malgoverno, contro le cose che non vanno. I 5 Stelle in questo momento hanno rappresentato coloro che dovrebbero resettare il sistema. Una forza antisistema che, io credo, ha le gambe molto corte e non avrà possibilità di mantenere tutti gli impegni che ha assunto con i cittadini. Vedremo cosa succederà a livello nazionale. Io penso di aver fatto il mio dovere. Qualcosa di più forse si poteva fare se il centrodestra non avesse insistito con una serie di questioni interne che in qualche modo hanno allontanato ancora di più l'elettorato molisano. Fra un mese e mezzo si vota alla Regione. A questo punto, alla luce dei risultati di oggi, con quali prospettive e cosa bisogna fare a suo avviso? Beh, occorre innanzitutto analizzare i risultati, capire i motivi del perché di una sconfitta e poi, naturalmente, trovare la ricetta giusta che, secondo me, non può essere la ricetta dell'avventura, la ricetta dell'imitazione dei 5 Stelle. Questo sarebbe un errore grossolano che si può fare. Occorre perfezionare la nostra proposta, renderla credibile con i fatti, con i comportamenti, con le dichiarazioni, con gli impegni che in questo periodo non ci sono stati, o almeno da parte di qualcuno non ci sono stati, e quindi avere il coraggio di riportare il governo del centrodestra alla Regione perché io credo che la Regione ha bisogno di essere governata e non ha bisogno di correre avventure. Questo, secondo me, è possibile farlo. Intanto, in Puglia, è stata eletta deputata la coordinatrice regionale molisana di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione, dunque, la sesta molisana in Parlamento. E sempre dal centrodestra, per Filoteo Di Sandro, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il risultato del suo partito in Regione è una buona base di partenza intorno alla quale costruire un partito e una coalizione più forte in vista delle imminenti elezioni regionali. Il partito di Berlusconi è stato, invece, il commento di Nunzio Luciano. In Molise, comunque, ha tenuto la coalizione, ha raccolto tanti consensi, ma nulla ha potuto contro il voto di pancia, così lo ha definito il candidato al Senato per il centrodestra per Forza Italia, che ha premiato i 5 stelle, a cui faccio in ogni caso i complimenti e auguro buon lavoro. Cambiamo argomento e lasciamo la politica. Non c'è stato, purtroppo, nulla da fare per un uomo di 58 anni che in mattinata si è ucciso con un colpo di pistola alla testa nella sua abitazione di Via Egadi a Termoli. A dare l'allarme sono stati alcuni infermieri che erano andati a casa per fare alcune medicazioni dopo un intervento. Sul posto un'ambulanza e la polizia per gli accertamenti, il 58enne gommista viveva da solo. Parliamo ancora dell'avvertenza dei cantonieri della provincia di Sernia, perché dopo alcuni incidenti che si sono verificati nei giorni scorsi il Partito Comunista dei Lavoratori punta il dito sulla carenza di manutenzione sulle strade dovuta proprio alla mancata riassunzione degli operai. In questo modo è il parere del PCL, del Partito Comunista dei Lavoratori. Oltre a cancellare posti di lavoro si mette a rischio la sicurezza degli automobilisti. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. La colpa non è del ghiaccio. Se negli ultimi giorni gli autobus sono finiti contro il guardrail o contro un muro a pietra abbondante e macchia godena, la colpa è solo della carenza di manutenzione sulle strade provinciali. A dirlo è Tiziano Di Clemente, che torna sulla vertenza dei cantonieri lasciati a casa dalla provincia di Sernia alla vigilia dell'ennesimo tavolo istituzionale che potrebbe portare alla stabilizzazione dei 33 operai. È evidente, è il parere del coordinatore del Partito Comunista dei Lavoratori, che certi incidenti dipendono dalla scarsa manutenzione delle strade provinciali, peraltro a fronte di eventi neanche eccezionali. Se vi fosse stato un piano serio con personale qualificato, come quello degli ex operai cantonieri in vertenza, si sarebbe usciti la notte precedente con i mezzi e con il sale, evitando i rischi del gelo già previsti. Nel frattempo una frana sta creando disagi sulla provinciale tra Rocca Sicura e Forli del Sannio. Mentre le erbacce non tagliate, l'estate scorsa hanno creato problemi agli automobilisti, ostruendo la visuale. La scelta di privatizzare il servizio, dice ancora Di Clemente, finora ha portato risultati discutibili. Per il coordinatore del PCL c'è stato solo uno spreco di risorse pubbliche pagate con le tasse dei lavoratori, a fronte di strade che rimangono pericolose. Oggi il piano di manutenzione provinciale a suo avviso fa acqua, proprio per via dell'assenza di operai qualificati. Un vuoto che per i sostenitori dell'avvertenza dei cantonieri può essere colmato solo stabilizzando i 33 cantonieri part-time, il minimo indispensabile per curare gli oltre 800 chilometri di strade provinciali. Dare risposte a questi operai non significa solo dare un lavoro, conclude Di Clemente, ma anche lottare per il bene comune della sicurezza stradale. Tra disagi a Termoli, a Riovivo, dove le piogge incessanti delle ultime ore hanno fatto nuovamente franare parte del costone che si trova proprio a ridosso di alcune case. I residenti si sono di nuovo trovati con il fango quasi dietro casa e dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco si è deciso per lo sgombero del palazzo che si trova al Civico 272. Vedete le immagini, i due nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le abitazioni, tra cui una donna con i due figli piccoli e una signora anziana. Su quel costone di proprietà di un privato il comune di Termoli aveva ordinato una messa in sicurezza. I soldi per l'intervento ci sono, ma i lavori sono bloccati. In chiusura di telegiornale l'appello per una cagnolina che ha circa due anni ed è una meticcia di colore chiaro con un ciuffetto bianco sul petto e sul musetto, indossa un collarino di colore verde chiaro con i fiorellini, con un gancio di chiusura grigio. Ecco, vedete la foto, è munita di microchip, molto probabilmente si è spaventata a causa del forte temporale e dei tuoni e si è allontanata dal giardino di casa nei pressi del ristorante Rochef a Campobasso in zona Tappino. Potrebbe essere in giro nella zona dell'ospedale o essere scesa per la stradina che porta verso Ferrazzano e Mirabello. Chiunque l'abbia trovata o ne abbia notizie può come sempre contattare la nostra redazione. È tutto, termina qui la TG delle 14. Dopo la sigla, le previsioni meteo, poi la linea ai colleghi dello sport. Noi ci rivediamo per l'edizione Flash intorno alle 15. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.